buongiorno ragazzi io sono andrea di giulio insegno geologia sono direttore del dipartimento di scienze della terra e dell'ambiente purtroppo per quello che sta succedendo quest'anno non riusciremo a portarvi nei soliti bei posti dove vi insegniamo sul campo la geologia tutti noi speriamo di poterlo fare di nuovo l'anno prossimo al più presto e in attesa di poterlo fare mi piace farvi vedere che la geologia si può fare lo stesso lo stiamo facendo facendovi vedere un po di geologia del sottosuolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non possiamo vedere la geologia di superficie andando in posti belli come le olie o le dolomiti allora vediamo un po di geologia di sottosuolo che è una delle cose che i geologi fanno anche per lavoro aspettando di poter di nuovo tornare in bellissimi posti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti